la leggenda del volto dell'uomo sulla luna diverse culture credono che il volto che comparirebbe sulla luna sia in realtà quello di caino condannato per sempre a vedere la terra osservandola senza però riuscire mai ad avvicinarsi per la propria condanna un'altra credenza interessante parla che in realtà tutte le persone che muoiono finirebbero sulla luna come gli unit e quel volto sarebbe lì proprio ad osservare tutte le persone e animali che lasciano la terra trapassando